È un piano promozionale ambizioso e ricco di iniziative, quello presentato dalla Camera di Commercio di Arezzo per il 2014. L'intervento principale sarà finalizzato alla promozione delle produzioni di eccellenza dell'imprenditoria a retina, con la realizzazione di incoming e workshop per offrire alle imprese valide opportunità di business a costi accessibili. Il sistema economico locale a retino contribuisce ancora in maniera importante all'export nazionale. Siamo la prima provincia in Toscana per rapporto export-imprese e la seconda, dopo Firenze, per il volume complessivo. Abbiamo investito tante risorse nell'export e nelle aziende, in qualsiasi comparto, dall'agroalimentare al manifatturiero in genere, per far sì che si inneschi un circolo virtuoso che riporti delle cadute importanti anche dal punto di vista sul fronte del turismo nel nostro territorio, che ne ha davvero bisogno. Sono oltre 4.470.000 le cifre che mettiamo a disposizione di questo territorio. Quest'anno abbiamo investito il 70% in più nell'export, abbiamo investito il 40% in più nel mondo dell'università e abbiamo investito il 20%, 22% in più nel fronte del turismo. Quindi delle cifre importanti in una città e in un territorio che in questo momento ne ha davvero bisogno e necessità. Partendo dal territorio, proprio dal nostro territorio, noi quest'anno presentiamo un calendario di eventi molto intenso, da iniziative di carattere provinciale a iniziative di carattere nazionale, il Vinitali, la Mosa dell'Artigianato di Firenze e di Milano, fino ad arrivare a mostre internazionali in mercati lontani ma espansivi. Penso alla Corea, penso agli Emirati Arabi, agli Stati Uniti, fino ad arrivare a iniziative che facciamo in Cina. Ma quella della Cina, peraltro, è la prima iniziativa che abbiamo davanti. Dal 5 al 9 di marzo saremo alla Fiera di Hong Kong con 25 aziende del territorio retino dove presenteremo ovviamente prodotti dell'oreficeria ma cercheremo di allargare anche al settore della moda. E questo è proprio il refrain, cercare di fare una promozione quanto più possibile integrata.